Una risposta concreta alle esigenze del territorio. Taglio del nastro questa mattina di fronte al municipio di Monte Maggiore a Metauro per il nuovo mezzo con pedana dedicato al trasporto delle persone diversamente abili e degli over 65 autosufficienti ma con problemi di deambulazione. Il mezzo costato 16.900 euro è stato acquistato grazie a un importante contributo della regione Marche e verrà utilizzato da lunedì al venerdì su prenotazione per accompagnare le persone più fragili alle visite mediche anche specialistiche presso gli ospedali del territorio oppure nei vari uffici o negli istituti di credito può trasportare 5 persone, conducente compreso oppure una persona in carrozzina. Un servizio molto importante e mi consenta inizialmente di ringraziare il Consiglio regionale e nella persona poi del consigliere Luca Serfilippi per questa sensibilità che hanno avuto di fronte alla nostra esigenza richiesta di poter acquistare un mezzo che si può aggiungere al mezzo che noi abbiamo già a disposizione come taxi sociale però questo ha il plus di poter trasportare le persone che hanno difficoltà di ambulare. Mi unisco a questi ringraziamenti anche al ringraziamento del mio vice sindaco l'assessore Anna Chiara Mascarucci che segue egregiamente i servizi sociali con la responsabile e tutto lo staff all'interno dei servizi sociali perché stanno svolgendo un'opera veramente importante sul nostro territorio a livello sociale e questo è un ulteriore tassello che si unisce alle tante iniziative sociali che abbiamo nel nostro territorio e si unisce anche a una recente ulteriore inaugurazione che abbiamo fatto sempre sul nostro territorio a segno evidente che ci sono anche delle sensibilità tra le associazioni che hanno a cuore il destino di quelle che sono le persone più fragili come le persone anziane e le persone disabili e si cerca di dare loro una possibilità di vita normale che purtroppo non hanno. Assessore questo è un servizio che ne va a integrare uno già esistente? Sì esatto va a potenziare già il taxi sociale attivo dall'ex comune di Montemaggiorno è un servizio molto importante per i nostri cittadini oltre 65 anni e anche disabili molto utile per ad esempio andare a fare le visite, fare delle commissioni, banca, posta. Attualmente chi si occupa di questo servizio? Attualmente del servizio si occupa l'associazione Hauser con dei volontari. E poi pubblicherete un nuovo bando? Pubblicheremo sì esatto un nuovo bando, nel frattempo dovremo anche rivedere anche il regolamento attuale che al momento non prevede il trasporto dei disabili. Invece com'è possibile prenotare il servizio? Per prenotare il servizio basta compilare un'apposita modulistica e successivamente basta fare una telefonata ai servizi sociali facendo lo 0721 89 29 32. È possibile telefonare nei giorni di apertura degli uffici comunali e prenotare almeno una settimana prima rispetto all'appuntamento. Inoltre è prevista una compartecipazione al costo del servizio seppur minima e calcolata in base alle ISEE. Luca come è nato questo progetto? Sì questo è uno degli interventi che abbiamo messo a bilancio nella famosa tabella E tanto criticata ma poi quando si guardano i risultati concreti questo è uno degli interventi che insieme agli altri consiglieri di maggioranza e ai consiglieri che hanno votato il bilancio della regione abbiamo inserito ovvero quello di venire incontro alle richieste del territorio. In questo caso il vice sindaco Anna Chiara Mascarucci e il sindaco Briganti mi avevano chiesto di impegnare delle risorse 15.000 euro per l'acquisto di questo pulmino quindi è un risultato tangibile e concreto che sarà da oggi attivo a servizio di tutta la popolazione del comune di Colli al Metauro.